Buonasera, ecco dopo aver generato questa aspettativa uno sale che c'è un po' l'ansia da prestazione diciamo, non soltanto per la presentazione furibonda che mi ha fatto Maurizia ma anche perché parlerò per la prima volta di qualcosa di cui in pubblico non ho mai parlato e che attiene a quei guilty pleasures, quelle passioni di cui tecnicamente ci si dovrebbe vergognare soprattutto alla mia età, qualcuna ride e evidentemente lo condivide, diciamo che tutto il mondo dopo i 50 si aspetta che tu non abbia più passioni, che ti si spenga qualcosa dentro per cui ti occupi solo di cose concrete e eventualmente di promuovere le passioni altrui, dalle donne questo, dagli uomini questo no, gli uomini possono stare attaccati a vedere le partite di calcio fino a 89 anni va sempre bene, mio zio era un appassionato di calcio e soffriva di cuore e quindi ogni volta che giocava al Cagliari stava lì davanti alla televisione e si infervorava, si incazzava con l'arbitro, con i giocatori suoi, con i giocatori dell'altra squadra, ma proprio imprecava, ma la dittusia, da una gutta di gabi, di cose orribili in sardo si possono dire guardando una partita, mia zia pensava sempre che morisse di infarto, quindi per proteggerlo, da un certo punto in poi ha capito, non gli poteva dire Giovanni non guardare la partita, perché mio zio l'avrebbe mandato a stendere, quindi ha deciso di mettersi a cucinare tutti i mercoledì di campionato, triglie, piccolissime triglie, mio zio andava pazzo per le triglie, quasi quanto per il calcio, quindi era lì, non so se avete presente le triglie, credo non ci sia pesce più spinoso oltre allo scorfano in mare e quindi mio zio era, passava più tempo a guardare le triglie, che la partita il suo grado diciamo di attenzione diminuiva, di conseguenza si incazzava molto meno, si incazzava un po' con mia zia, diceva come è possibile annetta doniota che di questa partita tu mi vai trillotta, come è possibile che ogni volta che c'è la partita tu cucini queste piccole triglie? E effettivamente mia zia gli ha salvato la vita con le triglie, ma perché l'ho detto questo? Perché un uomo può avere delle passioni e possono essere eventualmente stemperate con delle triglie. A 50 anni se una donna sviluppa una passione, intanto socialmente inaccettabile perché si tratta appunto di, nel mio caso di Corea in generale, che va dal coreano ai coreani, in mezzo a tutto quello che c'è dentro va bene. Diciamo una cosa, che in Italia ha delle cose simili che possono essere scambiate per equivalenti. Stiamo parlando dei key drama, uno dice i key drama sono l'equivalente delle nostre soap operas, se avete quest'idea siete completamente fuori strada, perché gli sceneggiati, le soap operas, tutte quelle cose che vanno in onda durante la giornata e hanno come target donne che trascorrono la vita in casa, da noi sono fortemente connotate, cioè hanno un solo target, sono infinite, durano 20 anni, dice un posto al sole dura 20 anni, cioè il sole è tramontato e risorto su quel posto tantissime volte e in Corea questo non esiste, la serialità ha un termine, anche un termine morale, cioè a un certo punto le storie devono finire, giustamente, da noi no, diciamo, possono continuare a oltranza, noi non abbiamo mai la fine, questo ha molto a che fare con l'assenza anche di una progettualità sociale, perché se non arrivi mai col nodo al pettine, vabbè ma questa è una mia considerazione, non è molto importante, perché volevo dirvi, no no no, non applauda, aspetti aspetti almeno alla fine, perché non è detto che questo applauso le giunga così spontaneo come quello che stava per farmi. Mi sono innamorata della Corea circa due anni fa, ho iniziato a studiare il coreano, ho iniziato a ascoltare musica coreana, ho iniziato a guardare film coreani e serie coreane, ho iniziato a mangiare coreano, la mia famiglia mi odia, c'è una chat apposita dove io tutte le mattine comincio con qualcosa di coreano o in coreano, credo che ormai siano al punto della rassegnazione, ogni tanto emettono dei versi con cui dovrebbero, come dire, dimostrarmi che qualcosa l'hanno imparato, in realtà credo che mi prendano solo per i fondelli. La verità è che cercavo da tempo delle risposte a domande che sono sicuramente uguali in tutto il mondo, ma io per un sacco di tempo avevo pensato avessero una sola risposta, perché nella cultura occidentale quella risposta l'avevo incontrata sempre uguale anche spostandomi di continente, cioè da qui agli Stati Uniti sulle questioni delle relazioni, soprattutto le relazioni di potere, quelle dove si attiva la discriminazione tra uomo e donna, io che mi occupo di questo nelle cose tecniche, ma mi occupo tecnicamente anche di narrazioni, per un sacco di tempo ho decostruito gli archetipi narrativi in cui sono cresciuta, in cui siamo cresciuti un po' tutti e tutte, per cercare di mostrare come sin dalle storie d'infanzia ci vengano dati dei binari, entro i quali sviluppare quello che ci si aspetta dagli uomini e quello che ci si aspetta dalle donne. La questione dell'amore era una per me delle più problematiche, perché mentre il potere, in tutti gli altri aspetti, quello economico, quello politico, quello sociale, si può mostrare, si può vedere con evidenza, quando c'è di mezzo l'amore siamo tutti più portati a pensare che il sentimento sia più importante del potere. In realtà, poiché non riconosci il potere dentro le relazioni, è proprio nelle relazioni che agisce meglio lo squilibrio. E chiunque abbia vissuto una relazione stabile, questo può testimoniarlo in vari modi, però non ci abbiamo potuto fare niente per un sacco di tempo. Perché? Perché ci hanno cresciuti a colpi di cenerentola, cioè a colpi di principi azzurri ricchi e di povere ragazze che pulivano la cucina, che improvvisamente avevano il numero giusto della scarpa e si ritrovavano principesse. E vivevano felice e contente, dice la fine della fiaba, ma come dice sempre Chiara Valerio, felice e contente dipende da dove metti la fine. Cioè, se la metti nel giorno del matrimonio è facile, mettila sei anni dopo il matrimonio, mentre lei sta in cucina a pulire, ha due marmocchi attaccate alla canzone, vediamo lì se è felice, ma non è importante. Perché dobbiamo distruggere le fiabe? Non dobbiamo distruggerle. Io me ne sono fatta una ragione, dobbiamo analizzarle, sapere che hanno questo portato dentro, che ti suggeriscono dei percorsi simbolici a cui puoi aderire o puoi cercare di non aderire, sapendo però che combatti contro un immaginario collettivo, quindi fai il doppio della fatica anche a vivere, e basta, non ci ho più pensato. Poi quando ho iniziato a frequentare le narrazioni coreane e in particolare le storie d'amore coreane, ho cominciato a vedere delle cose che erano assolutamente straordinarie, mai viste nelle nostre storie. Situazioni uguali, non è che i coreani non si innamorano o che le coreane non si innamorano, però il modo in cui sviluppano queste storie è oggettivamente diverso e vengono fuori delle robe che io oggi condividerò con voi, come appunto se avessi scoperto un filone d'oro in una miniera, perché secondo me l'incontro con questo tipo di racconti può aprire un po' di prospettiva anche all'idea che ci sia qualcosa di naturale nella cosa culturale che sono le storie. Non c'è, dall'altra parte del mondo qualcuno ha trovato altre risposte, non perché la società coreana sia più emancipata della nostra, non è assolutamente vero, anzi per molti versi è vero il contrario, perché la Corea negli ultimi 60 anni ha avuto una grande accelerazione economica che l'ha fatta uscire da un territorio che confinava quei paesi del terzo mondo e oggi invece la dodicesima potenza mondiale, ma ovviamente la cultura non corre veloce come l'economia, quindi ci sono apici di digitalizzazione e di ipertecnologizzazione in un sistema che ha organizzazioni ancora per certi versi feudali, sia nell'economia che nella struttura familiare. Quanto conta la famiglia in Corea neanche credo negli anni 50 nel sud Italia, cioè è veramente dominante, questa cosa nei drama si vede, però ci sono altre cose che secondo me invece possono essere analizzate. Prendetele così come vengono, l'amore è una lotta di classe, l'ho intitolato perché tutto in Corea è una lotta di classe. Quante persone hanno visto Squid Game qui, tante mani alzate e sono contenta di questo, Squid Game, voi pensate è una distopia ambientata in Corea? No, non è una distopia, è proprio come si vive in Corea. Cioè in Corea la questione del divario economico è così schiacciante, il concetto di welfare è diciamo recente, certamente non organizzato come il nostro se possiamo ancora considerarlo organizzato, anche in considerazione del fatto che va, come dire, perdendo pezzi significativi. La questione amorosa è il luogo in cui di più il problema di classe viene avvertito e raccontato come tale. Perché? Perché i coreani e le coreane hanno un'idea di romanticismo un po' diversa dalla nostra. L'amore è importante, ma non è la cosa più importante. Quando c'è di mezzo una differenza economica, quella può fare la differenza. Quindi dice ma con l'amore si supera tutto? No, in coreano no. In coreano non si supera tutto, i soldi contano di più, la classe sociale conta di più, conta di più anche, c'è un modo di dire in Corea che indica un uccellino che somiglia alla cicogna, che va presso alla cicogna e che a un certo punto si convince di poter volare come la cicogna ma non ha le ali abbastanza estese. Per cui quando qualcuno si aspetta di crescere socialmente, quello che noi chiamiamo ascensore sociale, gli si dice attenzione non fare il bepsé, cioè non fare questo animaletto, non sei una cicogna. Il modo in cui nasci il tuo codice postale e il tuo indice di ricchezza familiare di partenza determina molto che tipo di scelte potrai fare. Figuriamoci quando si tratta poi di questioni di cuore. Allora, Pretty Woman in Corea è un film dell'orrore. Questa cosa è così, cioè non sarebbe mai stato scritto. Ora, tutti ci siamo cascate su Pretty Woman, no? Alla mia generazione, tutta. c'è Richard Girley che fa la prostituta, lui che arriva. Si comincia un po' male, un ricco stronzo assolta una prostituta come escort. E' chiaro che è la trama di un film dell'orrore. Già da lì avremmo dovuto intuirlo. Però no, noi pensiamo sempre che ci sia un'evoluzione, no? Il contratto si protrae e entrambi si trovano coinvolti emotivamente. Ora non sto lì a discutere la parte che ha avuto il consierge dell'albergo. Si arriva al conflitto, vincerà l'amore o la differenza? Questa è la grande domanda. In occidente vince l'amore perché la favola moderna è come quella antica. Qual è la favola che sta sotto Pretty Woman? E' la favola di Cenerentola. Ed è molto esplicita questa cosa nella... Cosa devo fare per farlo partire? Vado di click. Quando è che capita Kit? Quando capita davvero? Con chi ha funzionato? Forse ha funzionato per Maria Laseca o per Rachel? No. Ma quelli sono casi particolari, gente matta. Io voglio solo sapere per chi ha funzionato. Tu fammi un solo esempio di una che conosciamo la quale è andata. Un esempio? Vuoi che ti dica un nome, insomma? Uno, me ne basta un po'. Dio, che ossessioni sono i nomi. Quella gran culo di Cenerentola. Quella gran culo di Cenerentola. E ridono, non c'è niente da ridere. Quella gran culo di Cenerentola, dice. Ecco, qui lo sceneggiatore dichiara la sua intenzione. Vuole fare una Cenerentola moderna. Quindi, diciamo, da sguattera, prostituta, va bene. Sempre lavori da donna sono. E l'idea è che lui sia un principe nel modo moderno e capitalistico. Cioè abbia i soldi. Però sia anche un stronzo. Cioè uno che li ha fatti cannibalizzando le industrie che, insomma, comprava, poi smembrava, rivendeva. Non so se vi ricordate il gioco che faceva Ricerghieri in quel film. E il modo in cui il loro amore, ripeto, in coreano lo chiamerebbero così, ma il loro amore si sviluppa e che si sentono attratti l'uno dall'altra, si incuriosiscono l'uno dall'altra, ma con un forte dislivello di partenza che non viene colmato. Cioè non è che, non c'è, l'unica crescita è quella del sentimento, ma i personaggi alla fine sono gli stessi dell'inizio. Nel senso che non è che lei torna a fare la prostituta, però si trova nella stessa condizione in cui si trovava all'inizio, cioè ha bisogno della salvezza. Deve venire il principe sulla limusine bianca a tirarti fuori dalla tua condizione di ragazza, con delle grandi potenzialità, ma con niente in tasca. Ora, uno dice, ma è possibile che il sentimento non sia neanche un po' condizionato dalla differenza economica? Uno ha l'impressione, se compra il meglio di tutto quello che ha a disposizione, non ha l'impressione di fare un investimento sbagliato se proprio la cosa che più conta nella vita, la persona che deve starti a fianco, non è all'altezza del tuo contesto, sembra valere meno in una società dove la valutazione delle persone, questo tavolino mi farà cadere, io lo sento, perdonatemi perché continuo a girarci intorno, ma potrebbe finire molto male, ecco, così va meglio. Quindi io non ci credo a questo, cioè credo che funzioni il primo mese, poi cominci a non funzionare più perché non c'è una parità reale, dice sì però si amano, almeno su quel piano le cose sono pari, uno è fragile quanto l'altro perché uno ha paura di perdere quanto l'altro, è una bugia, i sentimenti non possono essere staccati dal contesto in cui sorgono, quindi l'idea che basti l'amore per azzerare la differenza tra un miliardario e una puttana è una sciocchezza, e infatti è una favola, è proprio una favola moderna. L'equivalente coreano di Pretty Woman si chiama Secret Garden, è una roba vecchiotta, ha una decina d'anni, non vecchia come Pretty Woman perché ovviamente la storia dei drama coreani è più breve di quella di Hollywood, sebbene non brevissima perché i primi sono degli anni Ottanta, però questo è del 2010, quindi 13 anni, allora Secret Garden, scusa se non ti chiamo amore potrebbe essere il sottotitolo, funziona così, c'è un ricco stronzo che si innamora di una poveraccia che fa la Stunt Woman, quindi già questa lavora col corpo, non fa la prostituta perché in un dramma coreano sarebbe difficile rappresentare una cosa del genere, però fa più o meno la stessa cosa, cioè vende performance fisiche. Lei non se lo fila di striscio, lui si fissa la stalkera sfoderando tutte le armi dei soldi, compreso i vestiti, si presenta ogni volta con una tuta sportiva ma glitterata oppure ricamata con le paillettes, oppure con del leopardato, oppure con del pizzo tombolato a mano, tutto fatto in Italia, lui lo ripete, tutti ridono ogni volta che appare, lui dice sono vestiti costosissimi, fatti in Italia e non capite niente, quindi lui è una specie di disadattato, bullizzato perché è ricco e i suoi gusti di ricchezza non incontrano il gusto estetico del contesto perché non c'è nessuno così ricco da potersi comprare i vestiti fatti in Italia, quindi quello strano è lui in realtà. Lei non si impressiona, fine della storia, cioè in Corea funziona così, lei sì è innamorata, però dice troppo un ricco e poi si veste veramente di merda, quindi non lo voglio frequentare perché io sono povera e lui è ricco, questa cosa è insormontabile, non importa quanto mi possa interessare o quanto io interessi a lui, è comunque un ricco, cioè quello che lei pensa, un ricco per quanto possa essere innamorato, per quanto ti possa stare vicino, cioè un ricco è come un renziano, cioè tu puoi anche farci un'alleanza, però lo sai che un renziano a un certo punto ti fotte, no? È proprio la sua struttura. Quindi la storia è finita, davvero in Corea non c'è sviluppo possibile, se nessuno dei due cambia, cosa si inventano i coreani? Dice vabbè però non è che può finire così, per risolvere la situazione è necessario un evento soprannaturale che inneschi l'empatia, lo scambio dei corpi, quindi a un certo punto questi due bevono una pozione preparata per loro nel bosco dall'anima del padre morto e si svegliano al mattino l'uno nel corpo dell'altro. Quindi il modo in cui gli sceneggiatori e le sceneggiatrici coreane mettono insieme l'insormontabilità di questa cosa è perché questo amore si risolva, sarebbe necessario che ognuno dei due fosse capace di mettersi al posto dell'altro e sperimentare con empatia la sua realtà. Questo non è possibile nel reale e dunque il dramma supplisce con un elemento fantastico. Ora, in Italia prima di toccare il fantastico ci si lava le mani tre volte e sei volte dopo. Tutti hanno il terror del fantastico, perché appena tocchi il fantastico è subito fantagirò. E dici non è possibile, non è una cosa seria. Siccome in Corea i dramma li guardano tutti, dai bambini ai vecchi, dai ricchi ai poveri, dagli uomini alle donne, è un prodotto che investe l'interesse di tutta la società, quindi quello che loro fanno non è identificare un target e costruire il mondo a misura di quel target, ma cercare di dare un messaggio generale a tutti che valga anche a titolo formativo. Quindi sappiate che se volete risolvere un problema di classe in una copia è necessario che intervenga vostro padre dall'aldilà con una pozione magica, perché sennò questa cosa non si salta. C'è tutta la parte divertente ovviamente dove l'uno sperimenta appunto la vita dell'altro, al termine del quale c'è un cambiamento effettivo dei personaggi, cioè lui non è più quello stronzo e lei non è più la poveraccia. Cioè sono proprio cambiati, cresciuti e possono fare una valutazione diversa. Attenzione, si mettono insieme in un modo che in Italia non sarebbe concepibile, cioè non è che allora andiamo all'altare e facciamo dei figli. Guardatevelo Secret Garden, se vi capita sta su Vicky Rakuten, interpretato da un giovanissimo Hyun Bin, per chi frequentasse i K-drama, è lo stesso attore di Crash Landing On You e la sceneggiatrice è la stessa. A distanza di 13 anni, Secret Garden e Crash Landing On You sono suoi. Ricordate questo particolare perché è importante. Come funziona un dialogo coreano, tre o due persone diciamo che guadagnano in modo molto diverso. Mi sembra sano questo schiafo finale, però il dialogo è incredibile perché chi ha scritto questa sceneggiatura non voleva fare cenerentola, voleva mostrare che l'unione tra un uomo ricco è una donna povera, inevitabilmente trasforma lei non in cenerentola ma nella sirenetta. Ora la fiaba della sirenetta credo sia una delle più violente in assoluto. Adesso dimenticatevi Disney, cioè la fiaba originale, così come è stata scritta, c'è una donna che si innamora di un uomo che ha salvato dalle acque e poi ha messo in mano un'altra perché lei non può camminare per terra quindi non lo può curare, vuole le gambe, ottiene la possibilità di avere le gambe, rinunciando alla coda, ma anche alla voce, cioè andrà nel mondo ma non potrà parlare. Quindi se tu vuoi entrare nel mondo dell'altro devi perdere la voce, devi stare zitta direbbe Morelli. E questa cosa ne fa un orrore perché lei ha un anno di tempo per convincere uno a cui non può parlare di innamorarsi di lei, cioè innamorati di me e non te lo posso nemmeno dire. Quello nel frattempo conosce un'altra, si innamora e la mattina dopo, in teoria dopo le sue nozze, la sirenetta dovrebbe dissolversi in schiuma del mare. Poi la fiaba ha un finale edulcorato che dice che lei a un certo punto si trasforma in uno spirito dell'aria per via del fatto che non pugnala il principe al cuore, potendo interrompere l'incantesimo, però quello è una specie di finale aggiunto, diciamo. La fiaba ha come scopo non aspirare a qualcosa che non è per te, cioè se quello è di una specie e tu sei di un'altra, se quello è ricco e tu sei povera, non c'è una soluzione, a meno che appunto non intervenga qualcosa di talmente superiore alla vostra volontà che cambia le carte in tavola. Diversamente sulla questione di classe l'amore non gioca alcuna, anzi gioca questa cosa qua, cioè tu stai incastrata tra i due mondi, incastrata nel senso che dopo che hai sperimentato la vita dell'amante di un uomo ricco non è che torni a farla povera, torni a farla frustrata, senza un soldo ma sapendo cosa hai perso. E non è, cioè lo schiaffo lì ci sta, diciamo, come ti permette di farmi un'offerta simile, lei rifiuta giustamente, quindi come dire questa attrice ci salva da Julia Roberts. Averla vista a 16 anni mi avrebbe aiutato in diverse circostanze, diciamo, però nessuno trasmetteva una cosa del genere, perché noi abbiamo bisogno di vedere sullo schermo che lui anche se ricco non è renziano. Che cosa offre, che cosa offre in questo momento il panorama dei K-drama? Allora questo è secondo me il drama, io per anni nelle scuole sono andata a decostruire Twilight, a decostruire After, a decostruire i libri, le storie d'amore generazionali dove c'era il maschile mostruoso, vampiro o licantropo o comunque violento questo maschio che sempre sei attratto e allo stesso tempo sai che se ci vai vicino puoi morire letteralmente. Ricordatevi cosa è stato Twilight per la generazione di 15-20 anni fa e per le loro madri anche, cioè una storia dove per compiersi l'amore ha bisogno che lei muoia per raggiungere lui in una dimensione di morte dove entrambi sono immortali. Ora una narrazione di questo tipo non scuote un pochino. Che cosa succede in Corea nel frattempo? Allora succede questa cosa, scusatevi vi rovinerò un po' di trama, però due mondi, due poteri, due linguaggi, due scenari di interessi diversi. Lui è il principe col cavallo bianco ma lei non è la principessa in pericolo. Allora l'elemento è sempre fantasy, è un'ucronia, ci sono due Coree diverse. Da una parte c'è la Corea contemporanea, una repubblica democratica con tutto quello che si vede che sappiamo della Corea del Sud. Dall'altro lato c'è una Corea contemporanea ma che ha fatto un tracciato storico diverso, cioè non è passata per la repubblica ma è rimasta un regno, ma un regno parlamentare come potrebbe essere il Regno Unito, come potrebbero essere molte delle monarchie europee e quello sarebbe il re. Se non che il re ha tutti i suoi problemi, ha problemi a mantenere il potere, Game of Thrones di Corea eccetera, al certo punto attraversa, non si sa come, l'intercapedine tra due mondi e si trova dall'altra parte e incontra lei, subito la incontra. Lui arriva col cavallo bianco e lei è una poliziotta che lo ferma in una piazza e gli dice scusa, hai il permesso, però c'è un set, non sono stata avvisata, chi sei, dammi i documenti. Lui dice non ho documenti, sono il re, lei dice ah, viene giù un attimo, all'inizio lo piglia per pazzo. Lui si trova in questo mondo dove chiaramente non è nessuno, cioè non c'è, non c'è il re, non c'è, anche l'architettura è diversa, ci sono statue che si trovano a Seul, che invece si trovano a Pionian, cioè c'è tutto un giro, diciamo, lui non capisce. Lì è un estraneo e lei invece ha il potere, perché è una poliziotta, perché può chiedere i documenti, l'identità, può portarlo dove vuole, può costringerlo. I due si conoscono, lui si innamora subito, lei no. Lui torna nel suo regno, ma sempre con l'idea che rivarcherà questa soglia. Fa così avanti e indietro, fino a che i due non si legano, combattono i nemici reciproci, perché lui ovviamente svarcando quella soglia non è che, già solo lui, si porta presso anche tutti i suoi casini, che porta nella Repubblica di Corea Contemporanea. A un certo punto, quando riescono a sconfiggerli, viene il momento topico. Dice cosa faremo? Ora finalmente staremo insieme. E lui dice, vabbè, vieni con me dall'altra parte, farò di te la regina di Corea. E lei dice, io ho fatto la scuola di polizia, ho qui la mia famiglia, ho i miei amici, ho i miei nipotini, ci sto anche bene, sai che c'è? No. Lui dice, scusa, ma io ti amo, anch'io ti amo, però troviamo un'altra soluzione. Io non rinuncio a tutto per te. E trovano un'altra soluzione. Lei dice, vediamoci nei fine settimana. E si vedono nei fine settimana! Cioè, voi dite, ma che finale è? È così! Si vedono nei fine settimana! Attenzione, perché il fine settimana è un momento molto preciso della settimana. Sono due giorni. Quindi, quello che ti dice un finale come questo, che è un lieto fine in Corea, ti dice questo, che l'amore conta in un'economia di sette giorni, conta due. Poi ci sono altre cinque cose che non è che contano meno. Sono importantissime. Quindi lei non dice rinuncio a tutto per te. Col cavolo! Lui dice rinuncia a tutto per me. Allora, la sceneggiatrice che ha studiato questo dramma, e che ha steso questa trama, ha costruito esattamente il rapporto di potere tra maschi e femmine, così come lo sperimenta in Corea. Cioè, c'è il regno maschile dove lui si crede il re. Dall'altra parte c'è il regno femminile, chiamiamolo così, dove non c'è il re, ma c'è la legge. E lei, guarda caso, è tutrice della legge. Quindi, dal punto di vista del ruolo, non sono molto diverse. Lei è espressione dello Stato, è un pubblico ufficiale della Repubblica, e lui è il re nel suo mondo. Come si fa a negoziare questo dislivello? Lui non può andare nella Repubblica di Corea, perché non è niente, non è più il re. Perché un re dovrebbe smettere di essere re? D'altronde, lei non può andare di là, perché di là tutto quello che ha costruito, che ha studiato, tutte le cose che per lei sono importanti, non ci sono e non le verranno restituite. Quindi non è possibile fare lo scambio, non è possibile dire rinuncia a tutto viene appresso a me. L'unica soluzione è trovare uno spazio terzo dove i due sono pari. Per cui questi, attraversando quello spazio, decidono di restare nell'intercapedine tra i due mondi, dove nessuno dei due è, né una cosa né l'altra. Questa cosa di generare lo spazio terzo, l'avessi saputa a 16 anni. E vabbè, lui è Eme Noh, uno degli attori più importanti di Corea, grandissimo, figo, se state tarando, se vedete questo dramma, l'asticella delle aspettative estetiche sui maschi si alzerà talmente tanto che molti degli uomini che conoscete e frequentate la vedranno dal basso, tipo ponte tibetano. Stessa trama, Crash Landing on You, questo è lo stesso attore di 12 anni fa, Jung Bin, che si è sposato poi con quest'attrice, Galeotto fu il set. Due mondi confinanti e ostili, le barriere sociali e politiche non si abbattono, non è vero che l'amore vince su tutto. Stessa storia, stavolta però non c'è elemento fantasy. Lui è della Corea del Nord ed è un ufficiale della Corea del Nord, è l'unico dramma che ho visto, no, non è l'unico, sono due, però l'unico in cui si è ambientato in Corea del Nord. I coreani del Sud, quando scrivono le storie che poi guardano in casa con la famiglia, fanno finta che la Corea del Nord non esista. Cioè non c'è mai, nessuna trama, tranne in questa. Lei è una ricca figlia di papà, imprenditrice a sua volta, che mentre sta facendo parapendio, un colpo di vento la sbatte oltre il confine e si ritrova appesa a un albero in Corea del Nord, con puntati sotto i fucili di una squadra che dice sei una spia della Corea del Sud. E gli dice ma no, non è vero, stavo facendo parapendio, quelli neanche sanno cos'è il parapendio. Quindi la tirano giù e devono decidere cosa farne. le credono, capiscono che lei è lì per sbaglio, però è un casino. Comunque, nel senso che dovrebbero denunciarne la presenza. Lui è il capitano della squadra, non vi sto lì a dire, insomma alla fine la proteggono, si innamorano, la fanno uscire dalla Corea del Nord per farla tornare nella Corea del Sud, ma nel frattempo loro si sono innamorati. E so che c'è il confine di mezzo. Lui è figlio di un grande generale e comunque sta bene in Corea del Nord. Lei è figlio di un imprenditore e sta benissimo in Corea del Sud. Cosa facciamo dell'amore di questa scocciatura intervenuta nel frattempo? Stessa soluzione. Poiché ti fanno uscire una volta all'anno per due settimane, perché sei figlio di un ricco generale, puoi andare a farti la settimana bianca in Svizzera, io ti raggiungerò in Svizzera e ci faremo la settimana bianca. E' un dramma straziante, bellissimo, bellissimo, dove proprio l'amore si sude in quelle due settimane. Voi credete che possano essere infelici? Mai! Può durare 30 anni questo rapporto, il resto del tempo ciascuno si fa i fatti suoi dove sta bene, in quelle due settimane sublimazione all'infinito, poi nostalgia, lo strazio, i coreani adorano una nostalgia, i turchi, i napoletani, non sono nessuno dal punto di vista emotivo, cioè il coreano è il vero neomelodico, nell'assenza coltiva i sentimenti più profondi, sono fedelissimi quando non ci sei. E quindi questa cosa qua, Crash Landing on You, è proprio… Adesso ve l'ho raccontata, ma vale la pena guardarselo, anche perché la mascella di lui è una cosa che meriterebbe il riconoscimento dell'UNESCO, così, proprio come… Anche lei è per chiarità, però… Questa cosa deve prevedere un nuovo tipo di maschio, cioè il modo in cui i dramma coreani raccontano gli uomini è effettivamente diverso, è un maschio non prevaricatore, cioè non è uno che vuole importi la sua visione, ci prova eh, però la trama glielo impedisce, chi scrive dice sì, è giusto che ci provi, perché comunque siamo una società patriarcale dove il maschio cerca di fare quella cosa lì, però nei dramma non ci riescono mai, nella vita è molto probabile, ma il modo in cui chi scrive i dramma genera una realtà aspirazionale migliore di quella che vive, avrebbe molto da insegnare ai nostri autori, cioè se uno dovesse giudicare un paese da quello che produce in termini di serialità, noi abbiamo Don Matteo, abbiamo scuole di polizia, distretti di polizia, carabinieri di ogni tipo, abbiamo 100 vetrine, un posto al sole, abbiamo questa roba qua, abbiamo forze dell'ordine preti, suore di quando in quando, uno dice l'Italia com'è, guardati un po' di serie, ti fai un'idea, no? È un'idea irrealistica, irrealistica. Il maschio è affidabile, che è diverso da fedele, poi vedremo perché, perché i coreani proprio sui triangoli hanno disposto a cambiare, sono i personaggi che cambiano di più in assoluto, sono quelli maschili nelle storie e che abbia una relazione sana non solo con le donne, ma anche con gli uomini. Cosa significa? Allora, gli uomini coreani si toccano tra loro anche se sono eterosessuali, non gli succede niente, non diventano gay. A differenza dei nostri che se si toccano diventano gay, ma noi non possiamo neanche avanzarla nelle pubblicità, non si possono neanche guardare in un certo modo o facendo certe cose. L'altro giorno eravamo a cena, eravamo io sotto maior, c'è Guevara. No, stavamo cenando e a un certo punto Chiara e Roberto si sono messi a discutere perché loro hanno questa infanzia, questa giovinezza condivisa nel napoletano. Roberto ovviamente è casale di principe. Chiara viene da Scauri che tecnicamente è l'ultimo paese del Lazio, ma è Napoli, totalmente Napoli e facevano l'elenco di tutte le cose che un ragazzino non può fare nella loro zona se non vuole essere preso per gay, ma cose assurde tipo non puoi mangiare il fior di fragola. Se ti beccavano col fior di fragola eri finito, era chiaramente un coming out. Non puoi desiderare di comprarti la Y10, questo è nella loro infanzia, perché non puoi andare in bicicletta. In Sardegna questo non c'è, tutti hanno la bicicletta. No, non puoi andare in bicicletta se sei maschio o eterosessuale, a meno che non vuoi che ti dicano che. E tutta una serie di cose che adesso non ve le sto a dire, però per dirvi quanto siamo, in Corea non esiste, puoi mangiare tutti i fior di fragola che vuoi. In bicicletta a quanto ti pare, non ci sono problemi, puoi toccare gli altri maschi, puoi anche ammirarne la bellezza. Non so se avete presente quando una donna dice a un uomo in Italia, hai visto che bello quello? Boh, non capisco niente di maschi e non mi piacciono i maschi, sono eterosessuale. E quindi, come dire, è come se tutti i tuoi criteri estetici che funzionano su qualsiasi cosa, quando c'è un maschio di metodo non possa ammettere neanche lontanamente che è figo, perché vorrebbe dire che… no, questo non si può proprio pensare, non si può pensare. Allora, vi faccio vedere un frammento di dialogo di uno dei dramma più famosi della Corea, che è Goblin, in cui… è un frammento di dialogo che non si potrebbe mai tenere in uno sceneggiato italiano. Questo è il protagonista, che è innamorato, la sua giovane sposa è molto più giovane, lui è convinto di essere il suo primo amore, e lui gli dice, ma no, non sei il mio primo amore, io ne ho avuto uno quando ero al liceo, era fighissimo, bellissimo, e lui dice, ma quanto potrà essere stato figo? Voglio dire, adesso vado a cercarlo, voglio vederlo, gliene dico quattro. No, non si sente. Allora, quello più vecchio si chiama Gongyeo, in Corea è una leggenda, e quello più giovane si chiama Gongyeo, ed è il fidanzato di Corea, diciamo. In questo dramma lui regala questo cameo, viene appunto scelto perché è fighissimo, e lui dice, beh sì, effettivamente sono il più bello qui dentro in questa paese. Ora, immaginate una scena in un dialogo qualunque di un dramma italiano, in cui un maschio eterosessuale guarda un altro e dica, come ti permetti di essere così figo? Cioè, sei il più bello qui dentro, questa arroganza fisica con cui ti presenti innanzi a me e permani nell'immaginario della mia fidanzata che non riesce a dimenticarti. Cioè, non potrebbe mai dirlo, a meno che non volesse essere sospettato a sua volta di provare un'occulta attrazione nei confronti dell'ex della sua attuale fidanzata, e capite cosa ci siamo persi. Capite che ci siamo persi da maschi, cosa vi siete persi? La libertà di dire a un altro sei veramente bello. Cioè, avere tutti e due gli occhi, non solo l'occhio che guarda le femmine, ma anche quello che guarda i maschi e vede, e dice, la bellezza io la riconosco da una parte e dall'altra. Una donna è perfettamente in grado di giudicare la figaggine di un'altra donna, ve lo dico, è possibile. Un maschio no, maschio qui no, lì sì. Vabbè, se te lo giudicano è per dirti che fa schifo. Dice, ma ti ricordi quando stavi con quell'altro prima di me? Un cesso in mane. E lì te lo sanno descrivere perfettamente. Però dire che è bello no, perché suppone la capacità di provare attrazione per la bellezza di un altro uomo. E questo no, è inammissibile. Allora, e qui cominciamo, scusa, qui mi devo un attimo sedere perché Nuna Romance. Maurizia, te la dedico questa. Allora, Nuna in coreano è il modo in cui gli uomini più giovani chiamano le donne più grandi con cui sono in confidenza, a partire dalla propria sorella e a scalare verso tutte le amiche della sorella, le cognate, le donne più grandi, diciamo, con cui c'è confidenza. Nuna vuol dire sorella maggiore. Nuna Romance è un filone coreano nutritissimo di drama in cui lui è più giovane, anche molto, molto più giovane, e lei è una donna. Addio Mrs. Robinson, l'ho chiamato. Devo specificare per chi non è nato nel 1972, Mrs. Robinson, protagonista assieme a un giovane laureato del film Il Laureato, appunto, è una MILF di cui il laureato si invaghisce con il quale va a letto, ma contemporaneamente anche con la figlia va a letto, cioè una fantasia tutta maschile in cui ti trovi tutta la famiglia, e poi naturalmente molli, quella vecchia, ti tieni con la giovane. Questo era Mrs. Robinson. La donna più grande in Corea non è una categoria di pornhub, cioè è una cosa che può succedere nella normalità e nessuno, come dire, viene meno per questo. Da noi sì che c'è questa fantasia, però è la zia, la cugina, cioè confinano con l'incesto. E sono situazioni di cui non devi dire perché che lei sia più vecchia è una cosa che tutti ti dicono, ma io lo so, allora adesso non voglio dire, però un po' di cazzi mievi li dico. Io mi sono sposata a 37 anni con un uomo che aveva 12 anni meno di me, un uomo di Bergamo, anzi delle valli bergamasche, quindi non proprio il posto più open-minded, diciamo, d'Italia. E la madre, quando lui ha detto mi sposo con una donna che ha 12 anni più di me, la mamma gli ha detto sei malato. Tuo padre non era così. Il padre gli ha detto sei un pervertito. E poi lì domande, ma può avere figli, ma può avere... Tutta una serie di... Impossibile, sembrava impossibile. Una pervertita. Mia madre, quando gliel'ho detto mamma, ho incontrato uno, mi sono innamorata, mi vorrei anche sposare, e dice quanti anni ha? Mia madre conosceva le inclinazioni. E vabbè, adesso non farmi questa domanda, ho aspettato tutta la vita di trovare uno che mi andasse bene, certo. Avrei dovuto aspettare che diventasse maggiorenne, mi ha detto mia mamma. Quindi questa cosa mi ha segnata la totale assenza di rappresentazione degli amori di donne più grandi, con uomini più piccoli, mi ha sempre fatto sentire una maiala che stava commettendo un'infrazione indicibile. In un mondo dove invece qualunque maschio di qualunque età può ambire a una donna che ha la metà dei suoi anni e anche di quelli di sua figlia all'occorrenza. Ora, vorrei citare, adesso non è che dico tutti i cinepanettoni, tutte le cose, questi maiali di 50 anni guardano sempre 20, 25 anni, la storia va bene, quando è così va sempre bene. Vi ricordo un film che si chiamava, forse Entrapment, una cosa del genere, dove c'era Sean Connery con Catherine Zeta-Jones, che dovevano svaliggiare non so cosa, una cosa di ladri, ma di ladri sexy. Quelli che cadono dall'alto con le tutine tutte aderenti, con il laser, con le cose per cui devi fare e si capisce che sei snodata, no? Allora, Catherine Zeta-Jones con Sean Connery, che quando ha girato quel film avrà avuto, non so, 68 anni, per carità, era ancora smatterassabile, non sto discutendo questo. Però lei ne aveva quanti? 35. Allora, era possibile rappresentare una storia d'amore tra un uomo anziano, un vecchio ladro, che si trova con una giovane allieva ladra, che ha 40 anni meno di lui, e tutti lì a sospirare e dire, eh, filmone. Provate il contrario, provate Rita Levi Montalcini, con un giovane studente del laboratorio o un assistente all'università. Provate a immaginare una donna di 80 anni, giustamente Teresa Cinque, quando guardava Sanremo quest'anno, diceva, è inutile che diciate l'anno prossimo lo presentano le donne con quattro valletti, uomini che si cambiano a ogni uscita, quelle donne devono avere 68 anni e 56. Cioè, la questione dell'età non è una questione piccola. Allora, in Corea questa questione dell'età è affrontata proprio di petto. Il Nuna Romance è un filone molto nutrito e direi anche interessante. Allora, il capo di tutto quel filone, la madre di tutti i Nuna Romance, è Something in the Rain. Il titolo in coreano dice, la bella sorellona che mi pagava il pranzo. Sembra un b-movie porno, lo so, ma non è, non è. E che appunto, la Nuna che mi pagava il pranzo, la bella Nuna che mi pagava il pranzo, perché lei quando lui era a scuola col suo fratellino, non era una famiglia ricca e quindi gli offriva il pranzo anche al compagnetto del fratello. Poi però è cresciuto. Sceneggiatura perfetta, cioè si vede benissimo tutto il casino che succede quando la famiglia di lei scopre che sta con il fratellino, con l'amico del fratello, quindi con uno dell'età di suo fratello. Casino immane. La madre peggiore di tutti che i dramma, io in questo anno e mezzo ultimo ho visto 227 serie. Lo so, mi sono dedicata con un po' di ossessione al coreano e inevitabilmente per sentirlo parlare devo ascoltare questa roba. E con gioia, ci specifico, è in assoluto il personaggio di madre peggiore di tutti che i dramma che ho visto. Cioè la madre di questa ragazza è una stronza disumana. L'amore, che cosa mi può fregare dell'amore? L'amore non c'entra niente. La famiglia non accetta un amore se c'è una differenza. L'amore esiste e può essere appoggiato dalle famiglie se è vivibile all'interno di una somiglianza. Devono stare almeno nella stessa bolla. Non vuol dire che non ci devono essere differenze, però devono essere superabili. Non è possibile questa differenza d'età, che è di tutte la più insuperabile. Perché se un giorno tu puoi giocare alla lotteria e vincere un biglietto che ti fa diventare improvvisamente ricca, per l'età non c'è niente da fare. Si piange tanto qua. Happy end da discutere. Nel senso che secondo me è un happy end, secondo altre persone che l'hanno visto non è un happy end. In Corea non si sa mai esattamente cos'è un happy end. Perché diciamo che si creano le condizioni per cui i due potrebbero stare insieme fregandosene, ma non sappiamo se alla fine se ne fregheranno o meno. Comunque vi consiglio di vederlo con una bella dose di fazzoletti accanto. Lui bellissimo, neanche ve lo sto a dire. Un mondo child free. Nei drama coreani non ci sono bambini. Non ci sono bambini. Se non fai bambini, non rappresentare mamme. Questa è la regola della sceneggiatura in Corea. 0,84%, scusa, 0,84%, cioè meno di un figlio per donna, è il tasso di natalità in Corea. È il terzo ultimo paese al mondo per nascite. Attualmente ha più o meno gli abitanti dell'Italia. Nell'arco dei prossimi dieci anni raggiungerà i 55 milioni. Entro 50 anni però la Corea avrà la metà dei suoi abitanti perché appunto non sta facendo figli. A meno che non faccia entrare stranieri. Ed è, purtroppo per la Corea, il paese con una delle più alte omogeneità etniche. Che è un modo elegante per dire che è un posto razzista. Per cui non fa, non gradisce particolarmente gli stranieri di qualunque colore siano. Il coreano, la Corea è un paese che si è molto protetto perché è un paese che ha conosciuto, è stata la colonia di qualcun altro. Quindi stanno molto attenti. Se vuoi sposare un coreano o una coreana devi fare tutta una trafila di controlli perché lo Stato verifica che tu non voglia coreanizzarti per qualche altro scopo. Quindi non vi sto a dire quali sono le... non perché mi sia informata. Serve per sapere, diciamo. Comunque, il dubbio per gli sceneggiatori è questo. Considerato che è un paese dove non si fanno bambini... Attenzione, perché la Corea fa tantissima spesa in campagne pro-nascite. E quindi diciamo che il sistema dell'Hallio, della produzione degli show, potrebbe andare in questa direzione per avere soldi pubblici, rientrare in questo tipo di progetti. Non lo fa. La produzione di K-Drama è molto libera su questo tema e infatti non ci sono bambini. Non ne vedete mai, nessuna donna è mai incinta, nessuna coppia che arriva a, diciamo, a compiersi felicemente e poi vuole figli. Non si parla proprio di bambini o di desideri di maternità. Ci sono solo due casi in cui ho visto bambini comparire nella trama, fisicamente o menzionati. E sono questi. Romance is a bonus book, questo io lo adoro perché è ambientato in una casa editrice, ho provato a immaginarmelo a lei in Audi, ma non mi è venuta allo stesso modo. Allora, lei è una 35enne che ha passato gli ultimi dieci anni sposata ad allevare una figlia, poi ha divorziato, ha lasciato la figlia dalla madre e adesso sta cercando di riciclarsi nel mondo del lavoro. Ma non la vogliono perché è troppo qualificata, perché si era laureata in marketing, è troppo vecchia. Quindi troppo qualificata per fare lavori meno qualificati del suo titolo di studio, ma troppo vecchia e quindi fuori dal percorso dell'innovazione di un paese dove l'innovazione corre fortissimo. Quindi non è competitiva. Questa bambina non si vede mai. Lei non può dire, io in questi dieci anni ho sviluppato una competenza da mamma, perché in Corea non è una competenza. In Italia per fortuna sì, no? No. No. Però in Corea proprio è questa cosa esplicita, non lo dire. Quindi questa bambina, che non compare mai infatti, viene nominata come una sventura. Qualcuno a tratti le dice, almeno non avessi avuto la figlia. Cioè il divorzio poteva passare, dieci anni ferma poteva passare, ma se non avessi avuto la figlia dieci anni ferma non saresti rimasta, perché sposarsi non vuol dire smettere di lavorare. Un amico più giovane che la ama da sempre, quindi è un nuna romance, questo. E poi c'è un artista che si innamora di lei, qui introduciamo un po' il tema del triangolo. Questo è uno dei più interessanti, è un dramma, non solo un dramma. Nelle prime cinque puntate si tocca con mano la disperazione di una donna di 35 anni che in Corea non riesce ad entrare nel mercato del lavoro. Proprio non ci riesce. Come ci riuscirà? Mentendo. Cioè producendo un curriculum falso dove non c'è scritta la sua laurea. Quando poi lo scopriranno ve lo andate a vedere. La cosa del triangolo. Ah, nell'altro caso, qual era l'altro bambino? Un ragazzo padre. Che ha un bambino, si innamora di una donna e non sa come dirle, devi prenderti anche il bambino. Un ragazzo padre. Capite? Il triangolo sì. Allora, questa cosa in Corea è proprio una roba... Due non è mai abbastanza. L'amore è un processo, non è un evento. Uno dice mi sono innamorato, non ci ho potuto fare niente. Ti ridono in faccia. Cioè l'amore è una cosa che tu fai succedere. L'innesco ci può stare, ma poi sei tu che prendi le decisioni. Non è che ti investi un treno. Il mondo è pieno di persone amabili. Pensare che te ne basti una è abbastanza ingenuo. Scegliere non è sempre la soluzione migliore. O me o lui. Siamo creature complesse. Può darsi che ce ne servano due o tre. The King in Love. Sai chi ti saluta tantissimo? Rare 2. Questa storia è proprio calcata sul ciclo arturiano. Il re, l'amico del re, la donna del re. Allora, lei li ama entrambi, li rispetta entrambi, li vorrebbe entrambi felici. È una persona splendida. Ma solo uno dei due fa felice lei. L'altro però ha più bisogno di lei. Quindi l'amico la fa felice, ma il re dice che cazzo mi vuoi lasciare a governare il regno di Gorio da solo. Io con tutti questi nemici, tu che sei il mio unico sostegno. A chi spetta la scelta in questo caso? Considerato che c'è tra i tre un rapporto di potere. Perché il re è soprattutto lei, madama di corte, e quello è il capo delle guardie, tipo l'ancillotto. Ecco, questa roba qua. Chi deciderà? Andatevelo a vedere, perché la fine di questo dramma è una cosa che il ciclo arturiano non è arrivato a concepire. In Corea invece è possibile. Cioè è possibile che un uomo scelga bene per il suo paese, per la sua donna e anche per il suo amico. La decisione non la prende lei, ma la prende lui. Però è interessante. Su Vicky Rakuten. Alchemy of Souls. Drama nuovissimo, appena finito, e non vado pazza perché c'è tanto fantasy. Il momento giusto. Uno l'ha vista prima, quello carino lì. L'altro non la vede neanche quando ce l'ha davanti, quest'altro carino qua. Lei non vede nessuno dei due perché deve occuparsi di sé. E non vi dico anche qui come finisce, ma è interessante il rapporto di amicizia tra i due. Entrambi sanno che l'altro ama. Cioè in Corea il conflitto tra due uomini che chiamano la stessa donna non è mai... Cioè c'è l'attrito, ma non è il ti odio brutto stronzo come ti permetti di amare la stessa donna che amo io. Cioè il concetto è, se ti sei innamorato, la stessa persona che piace a me, hai ragione. Perché se no anch'io mica mi sarei innamorato. E quella è amabile. Quindi sei uno che ha i miei stessi gusti. E poi magari non avrai le mie stesse possibilità, o magari sì. Però non ti posso odiare per il fatto che provi le stesse cose che provo io. Perché è giusto. Start up, questo è uno dei miei preferiti. È quello che mi ha sorpreso di più in assoluto tra tutti quelli che ho visto. Il lieto fine non è lieto per tutti. Uno la ama da tempo, ma aspetta il momento giusto, quello a destra. Uno non sa manco chi lei sia, ma le viene messo accanto da quello a destra, che dice guarda io non mi posso... È il trucco di Cyrano de Bergerac. Non mi posso dichiarare perché questa è quest'altra ragione. Fai la cortesia, fai tu un po' le veci. Poi a un certo punto arriverò io, farò lo splendido, eccetera. Il momento giusto cambia e lei alla fine... Non lo so, guardatelo. Certamente non è quello che uno si aspetta. Eccolo. Eccolo qua. G-C'è un uo, il mio autore preferito, scusate. Allora, l'amore conta ma non su tutto. Entrambi la amano. Lei ne ama solo uno, alla fine sta con l'altro. Perché ci sono cose più importanti dell'amore. Ed è bellissimo, è un finale stupendo. Tu dici, va bene, ma anche nella vita... La cosa curiosa è che quando non va come sembrerebbe logico, sono felici lo stesso. Cioè, non è che tu dici una vita di infelicità, rimpiangere la scelta. No, c'è felicità da una parte e dall'altra. Tutto è possibile. Se ti assumi la conseguenza della scelta, puoi vivere bene ugualmente. Certo, uno ci resterà un po' più male dell'altro, ma è tutto passeggero. Poi la vita sopravvive. Anche le tue scelte. Anche qui, l'avessi saputo. Heirs. Questa è una specie figli di papà in un liceo di figli di papà, appunto. L'altro è un altro me. Due ex amici si contendono una ragazza. Lei ama uno dei due, ma è affascinata pure dall'altro. Che in effetti è affascinante. Modello per questo e per quest'altro, attualmente per Ugo Boss. Quando il gioco della vita si fa duro, uno affida la ragazza all'altro. Cioè, quello che è stato scelto dice, guarda, sono incasinato, devo fare delle cose, correrò dei rischi, eccetera, me la tieni un attimo. Perché, so, aspetta, è certo che è Casablanca, è certo. Dice, non mi posso fidare di nessuno se non di te, perché sei tu che l'ami quanto l'amo io. Quindi, non fare il furbo, mi sto fidando, però sappi che non mi fido di nessuno come di te. Perché sei un altro me. E quella cosa lì, no? Se la ami è perché sei la cosa più simile a me che esiste intorno a lei. Questo è molto bellino. Ecco. Questo secondo me è una cosa troppo oltre anche per la Corea. Bad girlfriend. Allora, lei, il poliamore, non è più difficile della monogamia. A proporre il poliamore sono due maschi monogami che vogliono spingerla a scegliere. Lei non vuole scegliere, vuole tutto. Trova uno, un terzo, che la prende com'è. Uno dice, vabbè, però questo sui Pornhub c'è. Certo che c'è su Pornhub, ma su Pornhub? Cioè non c'è una legittimazione sociale, non ci sono patti scoperti di questa roba. È tutto quel sommerso cattolico che noi non riusciamo a pronunciare e che pure fa parte dei nostri desideri e farebbe parte anche della nostra capacità di organizzare le relazioni, se ce lo consentissimo. Ma siccome rileghiamo tutto alla perversione, viviamo in modo perverso quel lato del nostro desiderio. Questo è un dramma che tenta di normalizzare. Credo che questo sceneggiatore o sceneggiatrice abbia fatto solo questo, poi non gli abbiano mai più dato lavoro in vita. Però è eccezionale, perché lei è fantastica. Non è una stronza, non gli vuole male. Li ama tantissimo tutti. Quando è con ognuno, ciascuno è l'unico. Però non le basta. E quindi si ritrova con due relazioni nello stesso ufficio, l'uno non sa dell'altro. Quando lo scoprono, i due fanno un ragionamento e dicono, vabbè, le arrivano davanti e le dicono, senti, noi abbiamo deciso, frequentaci tutti e due. A noi va bene, purché dopo un tot tu scelga. Eh no. Cioè, il cuore della cosa è che io voglio frequentarvi tutti e due, non che voglio scegliere, se no sceglievo da sola. È interessante come finisce. Perché? Tutta questa roba succede in Corea? Perché il 90% dei drama sono scritti da donne. Cambia moltissimo. Questa signora è del 59, Song Jin Ah. È del 59 e il primo drama lo ha firmato nell'81. È considerata proprio la capostipite delle sceneggiatrici in Corea. Non sto dicendo che se scrive un maschio, se scrive una femmina, cambia qualcosa in letteratura. Cambia il punto di vista, non cambia la scrittura. Tant'è vero che Healer, per esempio, è un drama d'azione. Cioè, c'è una storia d'amore, ma è anche uno di quei film dove la gente si mena, dove ci sono storie di recatti, ci sono cose muscolari che normalmente ci aspetteremo che scrivesse uno sceneggiatore. Invece no, lei le scrive tranquillamente perché non c'è questa differenza. Però quando deve raccontare una storia d'amore, The King in Love, appunto, ti sovverte il re Artù. Grazie, Song Jin Ah. Kim Eun Soo. Kim Eun Soo è una divinità, è l'equivalente di Shonda Rhimes in Corea. Cioè, è quella che ha veramente rivoluzionato il K-drama. Guardate che cosa ha fatto, a parte Goblin, a parte The King, Descendant of the Sun. Cioè, questa è metà della metà della metà della sua filmografia. Lei è veramente straordinaria. Tutto quello che tocca, tutti vogliono fare i suoi copioni. Perché è una veramente brava, oltre ad essere fantastica. Quando andrò in Corea io la conoscerò. Chung Kim Jong. Tutta quella roba è sua. Lei è abbastanza giovane, ma ciascuna di queste sceneggiatrici lavora in genere da sola. Però non è sempre detto. Per esempio, qui abbiamo Le Sorelle Hong. Che sono strafamose, solo per A Korean Odyssey, ma anche Hotel de Luna. Queste sono tutti trame fantasy. Loro sono specializzate. Il coreano utilizza moltissimo l'elemento fantasy quando scrive. Per una serie di ragioni che hanno a che fare col drama storico. Non si possono scrivere drama storici senza molta attenzione ai dati storici. Non puoi prenderti troppe libertà. Perché c'è un ufficio che verifica il rischio di revisionismo storico. Pensate in italiano del genere. Pensate che uno voglia fare, non so, un drama sul fascismo e Mussolini ha fatto anche cose buone. Facciamo un drama che ribalta la prospettiva e sarebbe impossibile. Nessuno lo proporrebbe mai. E questa risata così serpeggiante mi genera un gelo. Così vi ricordo che Vittorio Sgarbi sta curando una mostra su Giulio Sevola. Recupero, dicevo, è molto difficile passare la censura di quell'ufficio perché se tu tocchi alcuni periodi storici, soprattutto del Novecento, durante l'occupazione giapponese, oppure delle dinastie, ci sono in particolare, durante la dinastia Yi soprattutto, quindi l'occupazione cinese, se tenti di minimizzare in qualche modo quello che hanno subito i coreani, prendi censura. Cosa significa? Che non puoi andare sulle reti nazionali, puoi appoggiarti soltanto alle piattaforme internazionali. Perché gli sceneggiatori e le sceneggiatrici, ovviamente, quando fanno questi drama, cercano di rivolgersi alla platea più ampia possibile, che è tutto l'Oriente. Quindi se deve essere visto in Cina o deve essere visto in Giappone, può darsi che i giapponesi e i cinesi non piacciono vedersi raffigurati come degli stronzi che hanno oppresso il povero popolo coreano, però è la verità. Quindi ogni volta che cerchi di sminuire questa verità, c'è un funzionario che dice questo non è un dramma storico. Allora cosa fanno gli sceneggiatori e le sceneggiatrici? Inseriscono elementi fantastici. Se ci sono elementi fantasy, sottrai al giudizio della storia e puoi dire un po' quello che vuoi. Non tanto quello che vuoi, se ci sono molti riferimenti precisi, però è interessante il fatto che loro non abbiano alcuna sudditanza nei confronti del fantastico come possibilità di racconto. Ecco, start-up, queste cose meravigliose. Queste sono le sceneggiatrici più famose di Corea. Loro coprono il 90% del mercato. Grazie, grazie. You, you, me? Snowdrop, ecco, Snowdrop, per esempio, va soltanto su Prime, Amazon, perché ambientata nel periodo dell'occupazione, nel periodo quando Corea del Nord, Corea del Sud, le spie della Corea del Nord, eccetera, è accusata di revisionismo storico. Quindi in Corea, chi vuole vederlo, deve avere Prime di Amazon. Ecco, questa non sappiamo chi sia, abbiamo solo il cognome e il nome e ha fatto solo questi due. E entrambe le volte il protagonista era Joe Gain, probabilmente scrive solo per lui, magari lo conosce pure, perché lui firma tutti i suoi copioni come propri. E gli dobbiamo quei due in una romance che sono veramente una bomba. Grazie, Kim. Ciao, sono Lawton, lo sceneggiatore di Pretty Woman. Prima di questo film avevo scritto Trappola in alto mare, trappola sulle montagne rocciose, con Steven Seagal. Ciao, sono Richard Curtis, una leggenda Richard Curtis. Con tutto il rispetto, lo sceneggiatore di Notting Hill, quattro matrimonio funerale, Love Actually, Bridget Jones, c'è posta per te di tutte le comode romantiche che hanno messo la tua sticella sentimentale dove non l'avresti mai raggiunta. Ricorda un po' l'imperatore Palpatine, la sua morte nera e il tizio in Love Actually che fa una dichiarazione assolutamente inutile con quei cartelli, rischiando di mettere in casino il matrimonio dell'amico davanti alla moglie dell'amico, mentre l'amico prepara la cena di Natale alle spalle e non sa niente di questo strano modo di rappresentare l'amicizia. Scusa, ma io devo proprio dirtelo che ti amavo. In Corea questa scena non esiste. In Corea tu non hai il diritto di sconvolgere i sentimenti di qualcun altro se non c'è la ragionevole condizione di poter iniziare una relazione a tua volta. Non puoi dirglielo perché non puoi tenertelo dentro. Puoi tenertelo dentro. I cartelli lasciali a casa, a meno che tu non voglia mandare in rovina il matrimonio del tuo migliore amico, che poi era il motivo per cui quello c'era i cartelli, perché non è che uno fa una dichiarazione perché poi vuol dire ciao e va bene, restiamo amici come prima. Speri che quella dice ok, ti ho sempre amato, ora lascio il tuo migliore amico là dentro che fa la cena di Natale e vengo con te. Già mai in Corea questa cosa non succede. Hanno modi per fare l'amore molto più creativi dei nostri. Se avete dei dubbi su cosa guardare stasera, un suggerimento ve l'ho dato. Se c'è qualche domanda, io volentieri risponderò, se posso, se c'è una domanda. Quante persone ci sono in sala che abitualmente guardano K-drama? Pochissime. Potete alzarla, non sarete giudicati. Ripeto la domanda, abbiate coraggio. Ho fatto io coming up, potete farlo anche voi. No, vabbè, quindi potrei potenzialmente aver catechizzato una platea. Connolly. No, vabbè. Acura. Grazie a tutti